Buongiorno a tutti e con grande piacere che avviamo questa iniziativa di vicinanza col Museo di Verucchio, cui molto ci lega, fra cui tanti lavori che stiamo facendo insieme, oltre al fatto che personalmente non posso dimenticare l'attività svolta come soprintendente in Emilia e le varie occasioni veramente gradevoli e piacevoli di andare a Verucchio a vedere i materiali, a vedere le iniziative, a sentire lo spirito che anima tutti quelli che lavorano intorno a quel museo. Contemporaneamente il nostro museo vuole anche essere vicino come può a un territorio duramente colpito da questo contagio, da questa emergenza e quindi in qualche modo testimoniare anche nella collaborazione museale quell'unità del Paese che serve ad attestare il fatto che le difficoltà le si affronta insieme e le si supera insieme. Il tema di oggi è un tema che vuole ragionare e se possibile anche discutere intorno all'idea di chi sono i villanoviani, cosa che non è così scontata e soprattutto non era scontata agli inizi della ricerca, né era scontata quando Pigurini acquistò dei materiali dal necropoli di Verucchio per collocarli nel Museo Nazionale. Naturalmente il termine villanoviani deriva dalla scoperta fatta da Giovanni Gozzadini nel 1853 di una importante necropoli a incinerazione vicino a Villanova di Castenaso. Inizialmente Gozzadini indicò questa come provenienza dei ritrovamenti, si trattava di un terreno di sua proprietà, ma in realtà come vedremo questa indicazione non era affatto veritiera. Ma accantoniamo un attimo questo. L'importante è che era un sepolcretto a incinerazione in cui venivano raccolti oggetti che avevano molta similitudine con oggetti più tardi raccolte anche in tombe con ceramica etrusca e quindi si poteva tranquillamente immaginare che fosse il precedente delle necropoli etrusche di Bologna stessa e dei dintorni. Gozzadini non ebbe dubbio e naturalmente disse che si trattava di tombe etrusche, ma il mondo scientifico non fu subito d'accordo con questa sua teoria. In effetti l'affermazione di Gozzadini è categorica. Nel 1854 la relazione che pubblica dice Tucur di un sepolcretto etrusco scoperto in Bologna. La idea dell'identità etrusca di Bologna è un'idea molto importante che sarà molto radicata nella città e che sarà sviluppata anche proprio nell'allestimento del museo civico. Dal punto di vista di Gozzadini non solo la necropoli era considerata etrusca, ma veniva vista un po' come in mezzo fra le tombe con ceramiche dipinte più tardi e i resti di tombe a cremazione dell'età del bronzo. Tant'è vero che disegna come vasi etruschi, e lo vediamo proprio nel gabinetto disegni e stampe della biblioteca dell'archiginnasio, lui regista come vasi etruschi anche vasi che sono effettivamente cinerari ed oli dell'età del bronzo finale. Quindi una continuità che quasi lega le terra-mare con le tombe etrusche attraverso il periodo villanoviano. In realtà lo scavo di Gozzadini non solo non era avvenuto in comune di Castenaso, nella frazione Villanova, ma era avvenuto in realtà nella diacente località Caselle di San Lazzaro di Savena, in un terreno sempre di proprietà del Gozzadini, che volle mantenere questa ambiguità sulla localizzazione anche per evitare possibili attività di depredazione dei contesti scavati. Ma lo scavo di Gozzadini era ai sensi dell'editto del Cardinal Pacca del 1820. Non dimentichiamo che in questo momento, fino alla Seconda Guerra d'Indipendenza, fino al 1859 e al plebiscito del 1860, l'Emilia era sotto lo Stato Pontificio, la Bologna era sotto lo Stato Pontificio e quindi in questo caso vigeva la legge pontificia e quindi l'editto il Cardinal Pacca e il priore di San Lazzaro denuncia i Gozzadini. Appena ha notizia di questi ritrovamenti, fa intervenire i gendarmi e attiva la Commissione Ausiliare d'Antichità e Belle Arti, presieduta in realtà dal Marchese Virciglio d'Avia, che era parente e amico del prete alla lontana e amico del Gozzadini, per cui in realtà il Gozzadini non ebbe nessun problema. La Commissione, in deroga la legge, autorizzò il Gozzadini a continuare le sue ricerche, imponendogli soltanto l'impegno di comunicare con comodo le autorità con una relazione che cosa aveva trovato. Va detto che poi col plebiscito nel 1860, entrando in vigore la legge piemontese e quindi il codice civile sabaudo, tutti gli oggetti ritrovati erano pienamente di proprietà del proprietario del terreno, cioè del conte Gozzadini. Il ritrovamento del Gozzadini viene a essere molto in rilievo, poco dopo, al congresso del 1871, proprio a Bologna, in ottobre, il quinto congresso internazionale di antropologia e arqueologia preistorica. Il congresso è presieduto nella biblioteca universitaria proprio dal conte Giovanni Gozzadini, che accompagna anche i congressisti a vedere i suoi scavi di Marzabotto, e ha modo di far toccare con mano le relazioni fra le tombe etrusche di Marzabotto e le precedenti tombe villanoviane del suo podere a San Lazzaro. Contemporaneamente nel convegno si incontra a Pigorini, che col Chieri ci riferisce sulle terramare, è presente anche un giovane Brizio, che stava facendo schedature per il catalogo delle collezioni classiche del Museo Civico, ed sono presenti i studiosi di tutta Europa, fra cui in particolare Gabriel de Mortillet. E' molto importante che il congresso riconosce alcuni importanti riferimenti fra popolazioni storiche e facesse archeologiche. In particolare riconosce che le tombe trovate a Marzabotto alla fine della fase etrusca sono tombe attribuibili ai Celti, e quindi getta le basi per la definizione della cultura di Latènes, e naturalmente in occasione del congresso non solo Gozzadini sostiene la natura etrusca dei ritrovamenti villanoviani, ma lo stesso Pigorini insiste molto per immaginare una continuità fra terramare ed etruschi attraverso appunto la facets e la fase villanoviana. Abbiamo detto che era presente a Bologna anche Edoardo Brizio, piemontese, la famiglia di Bralu, il nasce a Torino, è allievo di Fabretti ed è uno dei primi allievi della scuola archeologica italiana di Fiorelli a Pompei, quindi ha una formazione archeologica classica di tutto rilievo per l'epoca, viene incaricato nel 1871 di redigere il catalogo delle collezioni greche, romane e etrusche, cioè le collezioni classiche del multidereo civico di Bologna. Nel 72 è segretario della soprintendenza della provincia di Roma, quindi ha un incarico centrale, membro nel 74 dell'Istituto archeologico germanico, il principale riferimento internazionale per l'archeologia in Italia all'epoca. Nel 1875, con la nascita della direzione generale di scava d'etichità, è nominato ispettore, proprio nello stesso momento in cui Pigorini avvia, con proprio l'incarico di Ruggero Bonghi, il Museo Nazionale Prestorico Etnografico, che oggi prende il suo nome. Nel 1876, Brizio succede a Francesco Rocchi assumendo la categoria di archeologia dell'Università di Bologna e diventa il principale punto di riferimento molto a lungo perché resterà cattedratico a Bologna fino al 1907, fino al giorno della sua morte. Nel 1878 è nominato direttore della sezione antica del Museo Civico e nel 1887 è commissario per scava d'antichità per l'Emilia Le Marche, oltre che direttore generale del Museo Civico di Bologna. È importante sottolineare che quindi Brizio assomma su di sé la carica accademica, la carica di tutela perché è l'equivalente di un soprintendente dell'epoca, con una grossa attenzione anche verso l'Adriatico arrivando fino alle Marche. Abbiamo detto che dal congresso di Bologna Pigorini aveva posto in rilievo le somiglianze fra c'eramiche terramariccole e quelle villanoviane. Questa teoria sarà ulteriormente ribadita, accentuata da Colini, che più espressamente affermerà l'idea della derivazione dei villanoviani dei terramaricoli. È vero che Chierici già a Bologna fa notare che manca il villanoviano a ovest del Panaro e quindi apparentemente c'è un contrasto con la carta di distribuzione della cultura delle terramare, ma Pigorini pensa che queste apparenti apolie siano spiegabili che con un'evoluzione per cui i terramaricoli, i discendenti dei terramaricoli, varicano l'Appennino, arrivano nel Tirreno e poi con una corrente di ritorno diffondono la cultura villanoviana a Bologna e nella parte centrale dell'Emilia. Brizio combatte vivacemente questa idea e immagina che i terramaricoli, per la loro antichità, non possano che essere i Liguri. E quindi immagina i villanoviani qualcosa di diverso, un arrivo di indoeuropei, visto che vede la cultura a incinerazione e quindi immagina un collegamento con i campi d'urne transalpini e quindi immagina che gli Umbri che sarebbero discesi dalle Alpi orientali, entrando nella pianura padana e raggiungendo quindi Bologna. Naturalmente l'idea del Brizio contrastava col fatto che non erano note tracce villanoviane a nord del Po, però non di meno viene affermata e da quel momento la posizione ufficiale dell'Università di Bologna e del Museo Civico di Bologna è che i villanoviani siano Umbri. Tanto che ancora Pericle Educati, che assume la cattara dell'Università e la direzione del Museo dal 1921, continua a confermare la tradizione di Brizio pensando che i villanoviani siano Umbri venuti attraverso le Alpi Carniche. Immagina che questi raggiungano prima le spiagge del Tirreno, forse al principio del X secolo, per poi compiere un movimento da sud verso nord, secondo l'idea un po' del Pigorini, che avrebbe determinato il fiorire del villanoviano felsineo. Tutto questo si legava a una confusa rilettura delle fonti, in particolare di Erodoto, che citava gli Umbri nelle valle dell'Istro, cioè del Danubio, della Sava e della Drava, e quindi questa idea degli Umbri provenienti da un'area dell'Europa balcanica orientale. Contemporaneamente si immaginava che gli Umbri fossero all'origine della facces del proto-villanoviano, che noi chiamiamo Tolfa al Lumiere, l'ultima facces proto-villanoviana, prima dell'inizio della cultura villanoviana. Queste idee confuse verranno ulteriormente complicate dall'idea di Giuseppe Sergi, che immagina che gli incineratori dell'Etruria, ma addirittura gli stessi incineratori della necropoli del foro a Roma, siano appunto illirici, cioè sempre provenienti dall'Europa orientale, ma non Umbri, e poi cambia totalmente idea e dice che no, sono Celti, visto che ci sono dei confronti tra la necropoli del foro, Vetulogna e Gola Secca. Quindi, come vediamo, un po' di idee che si mescolano, ma diciamo che le due idee principali nel corso della seconda metà dell'Ottocento sono l'idea pigorignana-gozzadignana di un riconoscimento dei villanoviani come etruschi e l'idea di Brizio e poi di Ducati di riconoscere i villanoviani come Umbri. Tutto questo c'entra moltissimo con i ritrovamenti di Verrucchio, perché essendo Verrucchio collocato in una posizione geografica in cui era più facile immaginare una presenza Umbra, non siamo così distanti in fondo da Sarsina, che notoriamente la Pasca di Plauto, ma città Umbra, ebbene, i materiali di Verrucchio, che erano evidentemente villanoviani, del tutto simili a quelli di Bologna, servivano molto a riscaldare la discussione di questo tipo. Sono etruschi o sono Umbri? Per cui, a maggior ragione, Pigorini si sente stimolato ad acquistare, tra il 1885 e il 1899, diversi oggetti dalle tombe di Verrucchio per documentarli nel suo museo e rendere in qualche modo il più possibile l'articolazione del villanoviano. Ma che idee abbiamo di Verrucchio? Naturalmente ciò che noi vediamo oggi di Verrucchio è in particolar modo il borgo intorno alla Rocca Malatestiana e ci dà l'idea di una città arroccata, di una città posta a difesa. Le necropoli che noi conosciamo intorno a Verrucchio si collocano proprio a corona del borgo malatestiano e vedete che, tra l'altro, probabilmente i materiali pervenuti al Pigorini vengono proprio dalla zona Ibrocchi che in realtà è relativamente vicina a quella che sarà poi nota come necropoli lippi. Quindi in tutto questo quadro come e in che rapporti mettiamo i due più consistenti contesti villanoviani dell'Emilia Romagna, il villanoviano di Verrucchio e il villanoviano bolognese? Ora, soprattutto la grande quantità di scoperte fatte a Verrucchio negli ultimi 40 anni ha portato a vedere in Verrucchio qualcosa un po' a sé, qualcosa di autonomo, parallelo, comunque sganciato da Bologna come se avessimo il villanoviano bolognese e appunto il villanoviano di Verrucchio come due faces, due contesti simili in rapporti fra di loro ma separati. In realtà le comparazioni in questo caso non possono essere sostenute nel senso che Bologna nasce da subito come metropoli nel senso di città madre è una, Plinio la chiama Princeps Etruria, cioè la prima città dell'Etruria forse indicando anche un'idea di primazia cronologica tra l'altro conosciamo ormai abbastanza bene la città che fin dal IX secolo occupa un rialzo di 170 ettari una città grandiosa che ha tra l'altro una cinta muraria impressionante e monumentale trovata proprio negli scavi di Piazza Zarita che si data agli inizi della fase 2 di Bologna quindi siamo ancora nel corso del IX secolo a.C. una cinta muraria che prevede un grande fossato esterno fossati anche piccoli fossati interni un camminamento che ha due grandi corridoi che corrono lungo le mura realizzati in legno un agere in terra, un fossato interno, un nuovo agere una fortificazione enorme documentata proprio negli scavi di Jacopo Ortalli un sistema difensivo complesso che ci dà un'idea di una partenza da subito come grande città con consistentissime e numerose necropole all'intorno per territorio, per ampiezza, per ruolo inevitabilmente molto gerarchicamente superiore a Verrucchio ma allora Verrucchio che cos'è? noi conosciamo i materiali di Verrucchio che per ricchezza nelle singole tombe non sono affatto inferiori alla ricchezza delle tombe di Bologna ma non è questo che ci deve orientare nella valutazione si tratta di un'aristocrazia che è aristocrazia a Bologna tanto quanto è aristocrazia a Verrucchio e sono molto probabilmente legate se non imparentate queste oligarchie nobiliari e gentilizie di questi centri ma come sappiamo essere certamente nel corso del VI-V secolo il sistema organizzato gerarchicamente per cui si immagina la metropoli la città principale i centri secondari e quindi la città principale le altre città i centri secondari e poi i tutina cioè queste fattorie centri agrari minori quelli che nel mondo romano saranno i vici i fora i conciliabula ebbene in questo sistema questo sistema certamente fra VI e V secolo a una maggiore strutturazione di tipo civico urbano e anche probabilmente magistratuale ma già nelle fasi iniziali in cui il riferimento era prevalentemente nobiliare e gentilizio doveva esistere una gerarchia di questo tipo ciò non toglie che i riferimenti per esempio importanti come ritrovamenti di simboli di potere come i troni largamente presenti a verucchio con decorazioni caratteristiche sia in ceramica sia i più noti naturalmente in legno collocate in situazioni fuori dalla tomba che evidentemente potevano anche essere documentati a Bologna ma non si sono conservati nel contesto dei neocopoli bolognesi oppure conservate all'interno della casa della tomba della casa della tomba con altri arredi che in realtà sono del tutto simili a quelli che ormai conosciamo anche da Bologna in particolare dallo scavo relativamente recente dal 2002 della necropoli di via Bellearti vicino alla soprintendenza dicevamo quindi il trono come simbolo del potere dell'aristocrazia di Verucchio con confronti ben noti in Etruria nel Lazio e con un riferimento molto importante perché è sempre riferito a Verucchio il personaggio di cui ci parla Pausania che avrebbe donato a Olimpia un trono questo personaggio si chiama Arlimnesto che dona un trono ad Olimpia e il nome stesso fa riferimento noi sappiamo che il Marecchia il fiume che bagna Rimini che scorre ai piedi di Verucchio il nome antico era Ariminus e infatti darà il nome alla colonia romana e il nome Ariminus discende dal dal gentilizio etrusco come molti fiumi prende il nome del gentilizio di chi controlla quei territori come il Cecina come il Claterna che darà il quattrorente quaterna che darà origine alla colonia romana di Claterna ebbene così anche l'Ariminus latino Ariminus etrusco prende il nome da qualcuno che aveva un nome tipo Arribnesto da un gentilizio tipo Arribnesto e quindi ci da lega questo dato di Pausania specificamente con un ruolo nel mare Adriatico proprio dell'aristocrazia collocata nella zona di Verucchio però non possono sussistere dubbi conosciamo bene l'alfabeto etrusco qui abbiamo un esempio di un calamaio alfabetario ebbene due iscrizioni vascolari graffite vengono uno da Verucchio mititas io sono di Tita e uno da Covignano ai piedi di Verucchio mi laucume io sono del lucumone quindi non c'è dubbio che è una comunità assolutamente etrusca anche a Verucchio non solo ma una stile frammentaria ritrovata a Covignano e oggi conservata nel museo di Rimini è stata interpretata come più tarda perché mal si è capito l'elmo interpretandolo come un elmo berretto di Fantino ma che si vede benissimo che l'elmo è stato tutto scalpellato proprio nella parte che voi vedete nella desca della figura la pettinatura è ancora una pettinatura di tradizione dedalica vedete che sopra questo corre un'iscrizione in alfabeto norpiceno ma l'iscrizione originaria correva sulla cornice ma è fortemente danneggiato perché questa lastra era di rimpiego in una costruzione recente il modello per quanto riguarda la figura del guerriero e l'elmo sono questi modelli di guerrieri orientalizzanti come nel tumulo di Comeana di Montefortini a Comeana vediamo qui questa lastrina in avorio che mostra una figura appunto armata di lancia e il riferimento dell'iscrizione è molto simile alle tradizioni delle iscrizioni a ferro di cavallo collocate sulle cornici figurate delle delle stele funerarie volterrane con l'immagine del guerriero e poi conservate anche solo come iscrizione appunto a ferro di cavallo in rotaia quindi qualcosa di simile doveva essere la stella di Covignano tipicamente Etrusca che viene poi riutilizzata o riscritta anche se questo viene contestato vi farà vedere l'autenticità di questa iscrizione appunto con un'iscrizione norpicena solo per inciso l'importanza dell'iscrizione a ferro di cavallo è che come modello arriveranno fino al mondo delle presenze etrurie nel Piemonte meridionale come la stella di Busca in provincia di Cuneo e fino al mondo gola secchiano con iscrizioni in alfabeto per l'appunto gola secchiano in alfabeto di Lugano ma tornando a noi la stella di Covignano ci mostra dei confronti con le stelle di Novilara conservate proprio nel museo Pigorini di cui si discute ancora oggi sulla possibilità di un falso ma anche qui bisogna andare sempre con i piedi di piombo perché anche quando si è pensato che la fibula prinestina fosse un falso poi le prove assolutamente tracceologiche le prove tecniche hanno dimostrato in assoluto che era un originale ed era antica anche sulle stelle di Novilara è in programma un progetto di verifica perché è vero che essendo materiale tenero potevano avere delle contraffazioni abbastanza facili però è anche vero che si può con verifiche tracceologiche vedere se e quanto ci sono state delle interpolazioni delle falsificazioni naturalmente di nuovo un'apertura verso il mare quindi troviamo Covignano un'iscrizione che potrebbe essere in Orpicena e quindi un arrivo di popolazioni che non sono etruschi ma perché tutto questo perché non va dimenticato il ruolo che aveva la pirateria anche in Adriatico e non va dimenticato che i porti etruschi sono sempre collocati inevitabilmente sulla costa ma possibilmente anche sui fiumi ma controllati da città poste nell'entroterra qui l'esempio migliore è quello di Cerveteri naturalmente di Cere che controlla i porti di Alsium Pirge e Punicum ma la città che tratta per sfuggire a possibili razzie da parte di pirati o da altre marinerie contemporaneamente però c'è il controllo dei porti e qualcosa di simile avviene a Verucchio noi non possiamo comprendere Verucchio se non immaginiamo Verucchio come un porto Verucchio è la rocca a controllo di un porto ma dov'è questo porto? questo porto inevitabilmente non poteva che essere sul Marecchia che prende il nome Marecchia perché in età alto medievale Marecula formava un piccolo slargo un piccolo mare a monte di Rimini ma Rimini è una fondazione recente la colonia romana viene a essere realizzata su una fascia che in età etrusca era ancora la fascia del litorale quindi dobbiamo immaginare un riferimento per cui proprio la zona ai piedi di Verucchio aveva un allargamento del fiume e la linea di costa era retrata rispetto all'attuale città di Rimini i dati della geologia proveniente proprio dalle cave del circondario ci mostra questi grandi accumuli di ghiaia che mostrano i riempimenti relativamente recenti cioè comunque legati all'evoluzione degli ultimi duemila anni di questa parte del fiume che invece tendeva a dilatarsi ad allargarsi creando per l'appunto questa Marecula e qui lo vediamo anche nelle foto aere vedete raggiungeva anche uno slargo abbastanza forte vedete qua i diversi paleoalve che si sovrappongono in questa zona un po' a mandorla che corre ai piedi di Verucchio quindi per comprendere Verucchio dobbiamo immaginare una rocca a controllo di un porto che è il primo porto di Felsina il primo porto di Bologna quando per vari motivi questo porto andrà in crisi perché si insabbia perché ci sono incursioni piratesche per una serie di inventi il porto tenderà a spostarsi più a nord e con la fine del VI secolo diventerà evidentemente il porto di Spina nelle fasi precedenti Verucchio non solo è il porto di Bologna ma da origine a quel tracciato che diventerà poi la via Emilia con un tracciato molto netto tra l'entroterra riminese Bologna Modena tutti i centri che sono collocati lungo quest'asse quindi oggi dobbiamo guardare i velanoviani di Verrucchio come etruschi a tutti gli effetti non solo ma ancora più strettamente legati a Bologna con un ruolo preciso il che non toglie l'autonomia e il ruolo delle gerarchie locali e delle nobiltà locali dei gentilizzi locali perché il modello di controllo del territorio fino alla nuova colonizzazione dell'Etruria Padana dal 525 il modello del controllo precedente del territorio quindi in fase orientalizzante arcaica è ancora un modello di rapporti fra grandi famiglie gentilizie e quindi in questo modo dobbiamo concepire Verrucchio una rocca gentilizia di famiglie etrusche imparentate o collegate con le famiglie felsine a controllo di un importantissimo sbocco sul mare a servizio di felsina e a tutela di questa parte del territorio grazie e tanti saluti agli amici di Verrucchio